Ciao raga, buongiorno, video un po' speciale perché il tema è Davide Riondino vittima di truffa con l'SMS di Nexi, allora apriamo la magica scatola del Teche Giancanet, ovvero gli archivi del canale, di questo canale storico che ha manco due mesi di vita, però in realtà io questa cosa di Nexi l'ho trattata già, qualcuno si ricorderà, è stata trattata, intanto apro una parentesi, mi scuso per l'ultima live che è andata non storta ma di più, nuova location e ancora qualche problema di connessione da affinare, in realtà oggi ci sto lavorando ma ancora ci devo lavorare ma vi ricordo c'è anche una live mercoledì, lunedì, mercoledì e giovedì, tutti i lunedì, mercoledì e giovedì alle 13 ci sono le live quindi iscrivetevi al canale e andate sul sito www.gianca.net perché lì trovate anche il link alla guida tv, diciamo, al canale Telegram dove possiamo restare in contatto così il canale lo mettiamo al sicuro, restiamo in contatto con i vari contenuti, i vari format che sto facendo che è successo a Davide Riondino? Leggiamo, velocemente adesso vi faccio sentire la telefonata, la telefonata, la tipica telefonata di Nexi nella quale è rimasto, poveraccio, incastrato anche Riondino, quindi tra poco vi faccio proprio sentire la voce del truffatore allora, la notizia per chi se la fosse persa è che l'attore, cantatore e regista ha ricevuto appunto un sms da Nexi l'ho fatto già vedere come agiscono, arriva un sms e arriva un sms firmato Nexi, quindi è ovvio che una persona che cade in una truffa del genere comunque ha compiuto qualche leggerezza nello stare attenti a quello che su questo canale chiamo Red Flag le cose alle quali stare attenti, assolutamente, però la truffa è fatta veramente bene perché arriva effettivamente un sms da Nexi firmato Nexi, usano un escamotage tecnologico per cui in effetti l'sms arriva proprio firmato da Nexi e sfruttano appunto gli stessi temi della truffa, cioè sfruttano l'emergenza, l'urgenza che uno avverte quando riceve l'sms di un pagamento che in realtà non era stato autorizzato e così è successo proprio a povero Riondino ecco, una cosa raga, nei commenti un sacco di gente, ogni volta che presento una truffa, uno scam che può venire online tutti a dire, madonna che rincoglioni, ma come si fa a mandare? perché adesso vediamo Riondino quanti bonifici, ma può veramente succedere a tutti, considerate che comunque, non lo sapevo, se li porta benissimo a 72 anni, te beccano a 72 anni in un momento, un attimo di scarsa lucidità, perché se fa a 3.000 cose, veramente, può succedere, può succedere a tutti ripeto, è fatta bene, tra poco vi faccio sentire la telefonata cantatore, attore, regista, Davide Riondino è rimasto vittima di un raggiro e ha denunciato a grabbinieri da truffa di cui è stato vittima nel messaggio, come vi dicevo, veniva notificato il pagamento per l'acquisto di uno smartphone è esattamente quello che tra poco sentirete nella telefonata, è quello che hanno fatto a me in particolare, forse Open non lo dice, nel mio caso, mi dicevano, è stato acquistato un iPhone in Lussemburgo quindi stai a te, questi stanno a comprare, anzi, più iPhone in Lussemburgo quindi subito blocca la carta con noi l'acquisto di uno smartphone si concludeva con l'invito a contattare il servizio cliente in caso di ordine non corretto, con tanto di numero da chiamare Riondino ha quindi composto il numero, la stessa cosa che ho fatto io e che sentirete nella telefonata si è trovato a parlare con un operatore telefonico che credeva essere di Nexi il presunto operatore, dice lo stesso Riondino, mi guidava al blocco dei pagamenti ma con un raggiro di parole riusciva a farmi fare dei bonifici in cui seguiva un messaggio di transazione negata questo perché? Perché poi Riondino aveva questa notifica di transazione negata e quindi ripeteva il bonifico all'infinito praticamente fino a perdere 11.000 euro appunto come dice il titolo, come dicono i due giornali con 23 differenti bonifici voglio sentire che ne pensate nei commenti adesso parte la telefonata quindi commentate questo video, mettete like anche per dare una mano al video di essere diffuso perché oltre diciamo ad essere curioso è un video assolutamente divulgativo per capire come funziona se no ne parliamo e uno non capisce come funziona la telefonata ecco adesso ci sentiamo la telefonata e capirete come funziona la telefonata di questo tipo ma soprattutto iscrivetevi al canale restate collegati appunto perché di questi temi poi discutiamo nelle live molto leggere, parliamo del più e del meno ma discutiamo fondamentalmente dei temi del canale quindi andiamo a rivedere le cose fate le domande, fate le vostre osservazioni le mettiamo a video insomma ci si diverte un attimo insieme il lunedì, il mercoledì e il giovedì alle 13 allora parte la telefonata con l'operatore Nexi piccolo disclaimer, non c'è bisogno e lo dico Nexi ovviamente in questa cosa non solo non c'entra niente è proprio parte l'ESA quindi tiriamo fuori il nome di Nexi perché potremmo tirare fuori il nome di qualsiasi carta di credito servizio Nexi? pronto? sì? sì, salve, guardi, la chiamo per una piccola emergenza perché ho ricevuto l'SMS di un bonifico che però sicuramente non ho fatto io non so che succede con quale banca appoggia? con Nexi mi sembra cioè il nome sulla carta è Nexi di quale banca? la banca è quella del credito cooperativo quella che ho io di dove? mi scusi di Roma BCC di Roma a lei? sì ok, c'è lei relax e packing? eh no, guardi, non ho controllato da casa sì io adesso sono al lavoro e non ho controllato nulla prima cosa ho fatto la telefonata a voi quindi non ho visto deve controllare immediatamente per vedere se gli è stato autorizzato o c'è il pagamento ok, quindi torno a casa e controllo ma che può essere successo? non so mi contatti quando è a casa lo stessamente e controlliamo il tutto ok? ok, quindi devo entrare nella mia banca e vediamo insieme che è successo sì ok, va bene allora la richiamo fra dieci minuti va bene? va bene grazie sempre a questo numero? sì ok, grazie ok proviamo tra dieci minuti a ricontattarlo allora aspettiamo tanto che ci avevamo da fare allora intanto che aspettiamo vabbè vi faccio saltare i dieci minuti in registrazione questo lo dico anche per chi dice ma perché non famo sti video live sarebbe complicatissimo fare questi video live perché spesso ci sono questi intoppi questi rimandi telefoni occupati richiamami dopo quindi in questo caso per dare credibilità a tutto io devo aspettare qualche minuto per far finta di tornare a casa vi dico giusto una cosa controllate sempre a parte non date mai i vostri dati bancari al telefono improbabile in questo caso c'è già questa red flag grossa come una casa che la banca mi mandi un sms invitandomi a chiamare un numero mobile che inizia con tre veramente strano e comunque quando vi capita un numero mobile sospetto e state vacillando perché questo tipo di notizie ovviamente sicuramente fanno vacillare se non vi rendete subito conto che è scam verificate sempre adesso io lo faccio qua il numero di telefono dal quale è arrivato cioè scusate il numero di telefono che vi invitano a chiamare ecco in questo caso non dà risultati io in genere lo verifico o con la dicitura secca o col più 39 come vedete in questi casi non dà risultati però vi assicuro che spesse volte intanto ho già un pre-check queste numerazioni girano un po' magari la stessa squadra di di scammers o di truffatori è stata impegnata nel passato in altre in altre truffe e quindi utilizza le stesse numerazioni in questo caso avremo un numero di telefono che magari corrisponde ad un annuncio alla vendita in frigorifero oppure alla vendita di sim all'estero insomma a Bari business online o altre tipologie di investimenti quindi è improbabile che invece una banca o una carta di credito come Nexi un servizio di carta di credito come Nexi vada a utilizzare un numero utilizzato in precedenza da altri business quindi comunque fate sempre la verifica spesso a queste ricerche rispondono anche servizi online che fanno appunto recensioni di numeri telefonici indicandovi appunto truffo a scam quindi comunque mettere il numero su google risolve un sacco di problemi anche quando andate magari a dover richiamare un numero su chiamata persa fate prima un pre-check così vi togliete la rottura dove richiama uno scammer adesso saltiamo ovviamente registrazione i prossimi 7-8-9 minuti così io richiamo il mio Nexi horror è Nexi horror scam iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ma anche iscrivetevi adesso ve lo metto un attimo in sovraimpressione e poi saltiamo a t.me slash giancanet ovvero il canale telegram guida tv perché perché ci sono degli eventi del canale ogni tanto salto posso pubblicare qualcosa su altre piattaforme non solo youtube insomma quando succede se succede vi informo là anche se c'è un nuovo video su youtube non è detto che arrivi sempre la notifica in maniera puntuale a volte sono indeciso su che argomento trattare il giorno dopo ve lo chiedo insomma è un modo per restare ancora più in contatto con la programmazione con la frizzantissima programmazione del canale allora mi riallargo a tutto schermo è giunta l'ora richiamo il tipo vodafone servizio di segreteria telefoni ah io impegnato in altra chiamata anche questo ragazzi cioè veramente no che una banca chiamo e risponde la segreteria vodafone perché è impegnato in altra chiamata o perché non è raggiungibile cioè se vi trovate in fronte a situazioni del genere attaccate subito comunque io insisto perché voglio salutare il mio amico Scammer e salve sono sempre io Fabrizio Allegrelli sì salve allora io ho controllato e non ho assolutamente movimenti però l'aggiornamento è all'altro ieri quindi non so se ah quindi allora saldo contabile il saldo contabile è 21.874 ok quindi lei mi ha detto che non ho autorizzato giusto il pagamento no no io non ho bonifici da 1.800 io ho tre giorni fa cioè ormai tre giorni fa perché era il 15 ho un bonifico per un affitto che pago di un box e l'ho fatto in banca perché io uso zero la banca online insomma vado sempre in filiale e quindi questo questo me lo segna infatti ci ho messo pure un po' qui a rientrare questo pagamento me lo segna mi dica ma che è successo come può essere successa una cosa del genere stiamo vedendo può controllare tramite sms se hai ricevuto il nuovo messaggio un secondo è arrivato? no è un secondo che faccio pure difficoltà perché sto al telefono con lei adesso è un po' lento ecco si 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 lo vedo ok mi lo legga c'è un modulo ci clicchi su e blocchiamo i pagamenti allora aspetti ci ho scritto nexi attenzione richiesta di pagamento 1400 ma questo è un altro o questo è un altro sms è un altro sotto c'è un link ci clicchi su ma e perché sta succedendo questo scusi sicuramente adesso blocchiamo tutto mi controlla il link acceda per bloccare il tutto potenzialmente cioè devo entrare su questo perché questo non è un link è un numero e un modulo ci clicchi su signore allora un secondo eh ma col telefono faccio un casino ok ok adesso scusi questo il basso trovi la relax banking e che devo fare lì clicchi su clicchi su cortesamente mannaggia io guardi col telefonino è un casino non so signor Fabrizio purtroppo ci sono delle fraude in atto sul suo conto e dobbiamo bloccare dobbiamo mettere sicurezza saldo e conto ok ma lei lo vede che ci sono movimenti strani sul mio conto si ripeto si e non li può perché io qui non riesco a cliccare non li può bloccare lei perché questi soldi ho bisogno di confermare da parte sua dal modulo mi deve confermare quindi devo cliccare sul link io punto 199 e ci clicchi su cortesamente ma non riesco senta ma se vado in filiale fra dieci minuti non posso risolverla lì adesso prendo chi è dal lavoro un attimo una mezz'ora mezzogiorno e quaranta ce la potrei fare magari vado in filiale adesso non ce la fa in quanto la pratica è sotto nostro controllo e dobbiamo noi bloccare il tutto una volta riattaccato la chiamata i pagamenti andranno in autorizzazione signor Patrizio se per le va bene cioè che vuol dire no me lo rispieghi che andranno in pagamento eh in pagamento a chi a questi signori che stanno effettuando da lussemburgo stanno comprando degli iphone ma io non ho comprato gli iphone in lussemburgo ho capito eh ma dobbiamo bloccare attraverso il modulo se lei andrà in filiale le daranno un numero in cui di contattare noi una volta riattaccata la chiamata il sistema di impiegare i pagamenti in quanto lei non le ha avuto modo di disconoscerli e come li disconosco come li disconosco perché io ripeto non sono esperto sto guardi sono molto in ansia cioè non riesco a capire che sta succedendo io non ho comprato degli iphone in lussemburgo non mi può bloccare lei il pagamento da là non ci riesco in quanto sono dall'estero pur riescono questi pagamenti altrimenti glielo bloccavo io eh perché non può non ho capito che è andata via la linea non ho capito e non ho capito perché non può è andata via la linea in quanto i pagamenti sono sfatti preautorizzati dall'estero per questo non riesco io mi deve dare conferma lei ok ma non è mi viene il sospetto ma non è che lei mi sta truffando io? eh e se lei crede così vabbè penso che le devo dire ok senta ma può salutare il pubblico del canale youtube mi sente? no non mi sente più lo richiamiamo? proviamo a richiamarlo ma non mi risponderà mai proviamo a richiamarlo vodafone servizio di segreteria telefonica chiudo qui questo video grazie per essere stati fin qui ma ricordo ripeto mettete l'iscrizione al canale e piazzate puro un like collegatovi nelle prossime ore per le live se volete vedere i video extra del canale e supportare questo tipo di produzione mettete fate pure l'abbonamento a 2,99 euro e accedete anche alla programmazione programmazione esclusiva di già povero riondino pannaggia di Giancanet Club ci vediamo nelle prossime ore grazie grazie